Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI per lavori, in direzione mare un chilometro di coda tra La Strassigna e Montelupo-Fiorentino, in direzione Firenze rallentamenti tra Montelupo e Ginestra-Fiorentina. Fino al 15 novembre è chiusa l'entrata di Ginestra-Fiorentina. Segnaliamo che il cantiere chiuderà il 31 dicembre con un mese di anticipo rispetto al crono programma. Restano validi i percorsi alternativi su SP12 e A11. Chiusa per lavori l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in pruneta. Oversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!